Questa è una Lancia Priglia Cabriolet, carrozzata da Bertone sul disegno Revelli di Beaumont, telaio del 1946, carrozzata presumibilmente del 1947. Grazie per la visione! È una vettura che io ho acquistato nel Museo di San Martino in Rio, vari anni fa, l'ho acquistata, era di un colore verde scuro e con gli interni verdi aveva vari particolari che non erano proprio originali perché probabilmente era un restauro fatto molti anni fa e quindi non c'era l'attenzione che c'è oggi all'originalità. Abbiamo una foto presumibilmente degli anni 60 che ritraeva la mattina di un colore chiaro completamente da restaurare. Durante il restauro abbiamo trovato questo colore azzurro e quindi dalle ricerche poi abbiamo trovato che era stata di proprietà del conte Ferretti di Castelferretto che era appunto stato presidente delle squadre del Novara e il colore delle squadre sportive del Novara è appunto l'azzurro. E questa persona organizzava anche delle manifestazioni che le chiamava la calata azzurra quindi il colore che era il primo anche della statigrafia sembrava proprio fosse quel colore e la storia ci ha dato diciamo conferma che era questo azzurro originale. La macchina è stata completamente restaurata, abbiamo trovato delle parti di tessuto interno e di pelle che ci facevano pensare che fosse chiara quindi l'abbiamo fatta in pelle chiara il volante era chiaro e abbiamo conservato il suo volante originale ed è una vettura che noi abbiamo terminato di restaurare nel 2011. Grazie a tutti!